E arrivarono! Represero la capitale ed espulsero il regime per il bisogno di costituirlo il proprio governo E noi arrivavamo a svuotare questa damigiana Ma chi l'avrebbe detto che un peduccio fosse in grado di bere quanto un polonnello di Reggio? E come faccio io a sapere se un ministro è felice di ricevere un contadino? Senti che ministro e che contadino? Io e te siamo due compagni Valori come il rispetto e la ricizia valgono molto di più E io e te lo sappiamo bene Sei stufo? Tu pensi che io sei andato per fare l'uomo pubblico? Eh? L'uomo di Stato? Il suo eroe rinunciò alla pace per diventare la leggenda Ducine è un amante che ha il diritto di essere esigente Nel letto della rivoluzione non c'è posto per opesi o artritici Lei mi vuole cacciare da questo luogo sacro? Ma certo che no, colonnello No Continua a piovere e beviando E poi come arrivò al suo appuntamento con la morte? Ben detto colonnello Il suo appuntamento con la morte Fin da piccolo lui la coccolò La tende al suo fianco e la corteggiò come pochi Mentre la morte scendeva Snellata Snellata Vieni 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 Anche se fisicamente lontano da te Anche quando si mormorerà che tu sei abbandonato In un modo o nell'altro Io starò sempre a tuo fianco E ti amerò come un fratello Tu dirvi che io Ho cercato di essere un uomo giusto Che lottava contro l'ingiustizia Una specie di cristiano che lottava finché la clandestinità uscisse fuori dalle catacombe. Digli che lottai contro la superbia, l'ingiustizia, digli pure che Dio feceva. Io dirò soltanto che il loro padre valeva più di tutte le spiegazioni e di tutte le convenzioni. Egli ha lasciato il miglior testamento del mondo. Memorie? Appunti per il futuro. C'è un futuro. C'è sempre. E non c'è vanità nello scrivere pensando al futuro. No, se lo fai per quelli che verranno dopo. Perché ti sostituirà. E poi c'è vanità in questo. O in questo. O in questo. Andiamo. Dove? Dove ci porto il destino. Ti sei fregato. Questo non l'ho già detto. Stai per morire. Nessuno muore alla vigilia. Smettila di dire gli ozzini. Ho ricevuto l'ordine e sta per spararti. E allora perché non lo fai? Perché tre? Fala tu! Tutti gli occhi avanti! Spara! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.